Buongiorno dal Salone di Genova 2021, siamo allo Stan Suzuki e vi parlerò nel dettaglio delle novità elettroniche presentate sui nostri motori a manetta elettronica. Suzuki quest'anno introduce i nuovi componenti che vedremo sulle nostre console con un design rinnovato, più elegante, ma questa è solo la punta dell'iceberg di un progetto ben più ampio. Suzuki ha rivoluzionato la concezione della gestione della manetta elettronica ripensando tutto il progetto e integrandolo in tre macro gruppi che sono la gestione della manetta elettronica, integrandola con il sistema KLS, integrandola come ultima parte con la strumentazione di bordo che diventerà parte integrante sia della gestione che del sistema nel suo insieme. Per ora questo è tutto, per maggiori dettagli vi prego di andare a vedere il video completo su YouTube. Un saluto da Salone di Genova. Suzuki